E' ufficiale, giovedì sera, gara tra noi uomini per vedere chi ce l'ha più lungo. No, che ce l'ha stramerio, stramerio, stradeio. Allora, in digiuria ad acclamazione, Rosangela, Patrizia gli darà una mano per tirarlo su, io ho portato pinzette e lente di grandimento. Sì, nella doppia coppia ha i suoi figli. Mamma, mamma ha sentito che veniva Maria Vittoria? Grazie a tutti. Grazie a tutti.